Buongiorno a Monsignor Gianmarco Busca, Vescovo di Mantua, Piatto Sordello XV. In occasione dell'inaugurazione della lapide commemorativa dedicata a Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe Sarto, Vescovo di Mantua dal 1884 al 1893, eletto successivamente al soglio di Pietro, posta nel significativo luogo della stazione ferroviaria dell'omonima città, Sua Santità rivolge un cordiale saluto esprimendo vivo compiacimento per l'iniziativa, volta a rievocare con animo grato l'afflato pastorale che il Vescovo Sarto manifestò, verso quanti, segnati da sofferenza e povertà, lasciarono la loro terra natia in cerca di un futuro migliore. Papa Francesco auspica che l'evento, ravvivando l'incisiva testimonianza di fedeltà e amore a Cristo e alla Chiesa, che il Santo Pontefice ha mostrato con la sua vita e le sue opere, siusciti un rinnovato slancio apostolico, affinché la preziosa eredità spirituale sia fonte di ispirazione e di sostegno nel cammino di fede e nella cura di chi ancora oggi è costretto ad inserirsi in nuovi contesti sociali e culturali. Con tali sentimenti, il Sommo Pontefice assicura il ricordo orante e per intercessione di San Pio X volentieri invia ai presenti, tutti, la sua paterna benedizione. Cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato di sua Santità, dal Vaticano 5 novembre 2023. Grazie.